ok andato da un'occhiata che c'è un delay di una ventina di secondi ok da un'occhiata che il registro che perfetto livello di registrazione sono a posto tengo un po sottocchi i commenti da qua e la traccia delle stronzate da dire stasera di qui ok allora direi di aver capito come si fanno i video non a nove sedicesime ma a 16 nonni quindi non in verticale l'ultimo è venuto così e quindi così ce lo ciucciamo piccola rata courage sull'episodio diciamo puntata chiamiamola come vogliamo la volta scorsa insomma non sono giapponesi ma di taiwan quindi in ogni caso vedo che sono ultimamente in tour quindi pare che abbiano lasciato il suolo nativo per muoversi un'opportunità per andare a vedere anche live allora iniziamo con quello che secondo me è un po la notizia della settimana in campo musicale poi in realtà forse stavolta arrivando di live parlerò un po più di cinema perché un po più di news da quella in cui la commento dal punto di vista del cinema horror eccetera però no ce l'ha ricondizionata secondo te ed è sottile non è lano allora parliamo della cosa più secondo me più interessante che è il nuovo escaton Omega Lithios che dovrà uscire per per Lava Dome a breve ecco non sono un gran fan della Lava Dome come etichetta però ho fatto qualcosina come Chaos Inception e Beyond Mortal Dreams che sono abbastanza interessanti al di là di quello il nuovo escaton è una bomba pazzesca perché è mostruoso adesso più in descrizione metto i links al nuovo pezzo che è incredibile poi hanno un po quel gusto secondo me non fantastico dal punto di vista della copertina ma musicalmente sono qualcosa di incredibile poi roba come diciamo death metal brutal death di stampo un po più insomma gli australiani hanno sempre la loro la loro impronta come si era detto anche la volta scorsa questi più che l'impronta trasceggiante hanno proprio un quello stile insomma abbastanza unico tipo un po l'abominator eccetera eccetera sanno andare veramente sulle velocità impossibili cose di questo tipo pare che ci sia l'intero album in stream sull'orban camp non ho controllato comunque il gran gruppo è probabilmente l'uscita l'uscita più importante della settimana al di là del discorso del discorso Eschaton sempre rimanendo in ambito australiano pare che debba uscire il nuovo album di Sematary Vern si chiamerà Barbaric Retribution hanno cambiato cantante il nuovo cantante si chiama Geoffrey o qualcosa del genere e il resto del gruppo rimane rimasto sostanzialmente invariato c'è un pezzo nuovo non mi sembra proprio non mi sembra proprio straordinario ma rimane comunque un buon gruppo adesso se uno ha un budget limitato rimarrai su Eschaton questo Sematary Vern rispetto a tutto anche se la copertina è molto bella ma a parte il packaging così via i pezzi non sembrano non mi sembra un po' più straordinario poi però ho sentito un pezzo stiamo a vedere un po' il resto ah sì altro gruppo interessante gruppo di Seattle si chiamano Cerebral Rot hanno un pezzo hanno diciamo hanno fatto pubblicato un quattro pezzi di un di quello che è un singolo una sorta di demo i pezzi hanno dei titoli prettamente legati a questo filone di death metal marcio post undergang undergang se vogliamo dire non so quale sia esattamente la pronuncia danese diciamo comunque tutto il filone che è nato da lì e poi è un po' esploso ci sono tantissimi gruppi che adesso condividono quel tipo di estetica che a me personalmente piace molto e forse era anche propria della mia etichetta o ancora meglio della fanzine già forse da qualche annetto in più però non l'ho mai veramente consolidata al di là di queste digressioni Cerebral Rot non sono male secondo me di questi gruppi diciamo minori non c'è molto su internet ho provato a fare anche delle ricerche al di là di fatto che un gruppo di Seattle non sono riuscito a tirare fuori molto alto rimanendo sempre però a Seattle sempre rimanendo nella stessa città pare che debba uscire il nuovo album dei Drone and Quartered ovviamente gruppo gruppo storico prima roba insieme del 99 a livello di ristazione il gruppo è molto più vecchio si parla della 93 hanno fatto quanti 4 album finora il nuovo si dovrebbe chiamare The One Who Lurks ed è un gruppo della madonna quindi chi non ha la roba precedente se la vado a recuperare tutto perché no 4 album 7 ne hanno fatti 7 di album guardo ogni tanto di qua perché stengo sotto controllo i commenti del cazzo poi fino adesso se volete anche interagire in maniera un po' più un po' più intelligente invece di stai puttanate comunque si esce per etichetta etichetta francese Crusiator etichetta che sinceramente non conoscevo ma evidentemente si sono accaparati i diritti prestati al tuo album Drone and Quartered interessante il fatto o meglio da notare il fatto che non esce in versione vinile esce soltanto in versione cd più le solite schifezze digitali di questo di questo periodo ho sentito anche il nuovo pezzo di Convols storico gruppo finlandese con un buon album un buon album e un buon sette pollici all'attivo il resto sempre meno interessanti l'ultimo veramente non posso dire che è una merda però sembra di sentire c'è anche in mezzo di synth anni 80 sembra sentire una mezza via tra doom death metal e synth pop dell'81 non è una che mi faccia proprio particolarmente impazzire però forse sono quelle cose che si iniziano ad apprezzare al secondo terzo ascolto esce il nuovo Terrorizer Kostic Attack chitarrista sempre Harrison storico batterista di Monstrosity sinceramente dei due preferiscono aspettare l'ultimo Monstrosity Terrorizer a parte il leggendario primo album del resto non mi ha dato proprio un'impressione straordinaria poi conosco gente che ha apprezzato anche gli altri album forse è il peso del nome del gruppo che si fa sentire insomma uno te vede Terrorizer si sente in testa certe sonorità certi tipi di suoni e poi invece alla fine senti qualcosa che quando uscì il secondo album dopo tanto 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 tempo ricordo che ero anche abbastanza incazzato perché sentiva proprio qualcosa che ho perso totalmente quella vena più sporca più crasteggiante che aveva all'inizio poi forse oggi sarà anche un po' meno selettivo non lo so stiamo a vedere comunque il nuovo vediamo un pochino come va finalmente c'è qualche novità in più su un nuovo Crision che si chiamerà Scourge of the Enthrone che esce a settembre ovviamente su Centro e Media ho sentito ho visto la tracklist i titoli sono i soliti titoli apocalittici e la crisi ho sentito il pezzo il pezzo sempre quell'impronta sintetica batteria macchina da scrivere eccetera eccetera un po' meno devo dire forse un po' meno digitale un po' meno artificiosa del periodo che avevano avuto verso Ageless Vermuso o più o meno però cosa positiva hanno un pochino mollato tutti quei quei riffoni giuggi 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 alla macchinette alla 8breed insomma che sinceramente non rendevano neanche giustizia insomma siamo ben lontani dai fastidi primitempi non poi primissimi perché secondo me quello è un gruppo che non è maturato proprio immediatamente parliamo del primo del primo sette pollici del primo split così non erano ancora al cento per cento hanno avuto un po' la moturità veramente con Black Forest Domain e Apocalyptic Revelations poi dopo si sono un po' persi anche forse di un po' più ricchi ma non che sia un gruppo un gruppo venduto per l'amore del cielo però copertine sempre più digitali sempre più computer grafica sony sempre più puliti a un gruppo del genere sinceramente non gli rendono giustizia però insomma loro hanno la loro visione e non l'hanno mai ecco ah ok ok ah ok ok ah perfetto perfetto sì sì stavo guardando il discorso della versione vinile di Drone and Quarter perfetto sì anche perché quello è un suono hanno delle sonorità che su vinile secondo me rendono forse meglio che non su che non su cd poi non apriamo di nuovo per l'ennesima volta il il vaso di Pandora sul fatto che la gente adesso registra in digitale poi tanto il suono su vinile viene sempre dal digitale quindi comunque artificiale insomma sono stronzate il suono su vinile il cd su i pezzi su vinile hanno comunque un'altra un'altra dimensione e soprattutto gruppi come come Drone and Quarter secondo me guadagnano da da quella sporcizia da quel fruscio tipico del vinile ok diciamo il discorso musicale non vedo tanto altro da qui di cui parlare per la settimana faccio una piccola capatina nel mondo dei fumetti perché ho letto di questa nuova miniserie di quattro numeri che si chiamerà Bad Time Games scritta da Nick Keller e illustrata da Connor Nolan che è una sorta di raccolta di storie di incubi adolescenziali illustrata abbastanza bene ma sembra da quello che ho visto dalle tavole d'anteprima essere piuttosto ben fatta dal punto di vista di creare queste atmosfere orrorifiche anche perché poi sembra che ne parli senza mai parlarne direttamente ma c'è questo concetto di tenere il mondo dell'incubo attivo anche durante la giornata quindi leggeva un'intervista anche allo scrittore lui vorrà dare da quello che si capisce da quello che si vince l'idea che gli incubi che abbiamo di notte in realtà poi sono meno terrificanti di quelli degli incubi che viviamo ad occhi aperti poi l'elemento sovranaturale che è presente in questi fumetti non so ancora bene però alcune tavole che ho visto sono abbastanza abbastanza incisive quindi potrebbe essere una cosa interessante vediamo se arriverà come tante altre robe su magic press o altri diciamo distributori traduttori italiani se arriverà anche sul nostro mercato allora parliamo un attimo di cinema la cosa più interessante la settimana ovviamente è notizione che Greg Nicotero Greg Nicotero chiamiamolo battezziamo una un accento diciamo Nicotero anche perché non so suppongo che gli americani le chiamano così sì forse è più facile che gli americani mettano un accento in fondo diciamo Nicotero diciamo Nicotero che è famoso artista specialista di fatti speciali che lavorò con Romero pare che in un primo momento lui rifiutò di lavorare con Romero perché stava finendo l'università poi dopo quando lo richiamò per girare The Of The Dead fece gli effetti straordinari secondo me di quel film ovviamente della scuola della scuola di Savini pare che Greg Nicotero abbia preso le redini di una nuova serie tv che riprenderà Creepshow il famoso film diciamo con un sequel anni 80 bellissimo uno dei miei film anzi uno dei miei film culto al punto che c'è anche il poster qui in camera fin geniale non sono un grandissimo fan di The Walking Dead ovviamente Nicotero è il produttore esecutivo e anche regista in pari di diversi episodi di The Walking Dead perderà le mani in redini di questa serie tv e pare registrerà anche il primo episodio non c'è molto altro da dire stiamo a vedere per il momento non c'è è solo trappellato alla notizia che il progetto è attivo è stato finanziato quindi vediamo vediamo che cosa che cosa ci porterà altra cosa interessante nuovo film di Shemailan che a me è un regista che è piaciuto sinceramente in tutti i film che ha fatto anche l'ultimo l'ultimo adesso non mi ricordo come si chiamava The Visit credo quello del ragazzino dei ragazzini che andavano dai nonni fuori di testa in campagna bellissimo comunque se non lo avete visto guardatelo ritorna e chiude una sorta di trilogia poi vediamo se sarà una trilogia o meno si allaccia comunque ai primi due film di questo mondo dark fantasy super eroistico noir thriller chiamiamola come vogliamo iniziato diversi anni fa con Unbreakable e poi continuato io sinceramente non lo sapevo e ci rimasi abbastanza di merda quando vedi il finale del film successivo quello diciamo di James McAvoy che ha personalità multiple esce quindi adesso diciamo la terza parte di questa trilogia sempre che trilogia sia con Sarah Paulson una famosa attrice storica di American Horror Story bravissima tra l'altro e pare che le tinte siano ancora più scure di quelle degli altri degli altri due film quindi sarà probabilmente una qualcosa di interessante si vede è ritornato Bruce Willis è ritornato Samuel Jackson nel ruolo di Glass dell'uomo di vetro ovviamente che dà il titolo al nuovo film che si muove Glass altro film interessante sempre diciamo parlando di film a grandissimo budget sarà questo Overlord ovviamente preso probabilmente dal ambientato durante la seconda guerra mondiale quindi probabilmente preso dal nome dell'operazione che portò diciamo agli alleati a mettere la testa di ponte in Francia nel 1944 la storia comunque narra di probabilmente alcuni di questi alleati che fanno oltre in territorio nazista e scoprono gli esperimenti dei nazisti che però in questo caso hanno portato una serie di mutazioni in uomini stile un po' zombesco e quindi in conseguenza è una sorta di zombie movie ad alto budget che probabilmente sarà interessante da andare da andare a spulciare vediamo comunque probabilmente arriverà anche in Italia più o meno in contemporanea quindi vediamo vediamo che succede passando diciamo a film un po' più basso budget al punto che questo diciamo terzo episodio è stato finanziato tramite Indiegogo andiamo a parlare di una trilogia che fece abbastanza parlare al suo tempo che si chiamava che è la trilogia di later est una inizio nel 2009 con il primo episodio di later est parlava di questa tipa qua che si risvegliava in una tomba poi veniva seguita da questo serial killer chiamato chrome skull perché diciamo una sorta di maschera a forma di teschio tutta cromata dopo il primo episodio del 2009 secondo episodio del 2011 diciamo è finito di essere finanziato la versione del 2011 scusate la versione del 2018 e pare che ci siano le prime le prime i primi screenshot le prime le prime foto di set diciamo di questo di questo di questo nuovo episodio ovviamente il chrome skull ritorna per l'ennesima volta e la volontà del regista come si chiama un attimo di lapsus Robert Hall Robert Hall era diciamo un problema tecnico come sa che mi si è bloccato tutto comunque diceva Robert Hall ha presentato questo c'è la San Diego Comic Con in questo fine settimana quindi allo stand dell'Almost Human ha presentato questo nuovo film stiamo a vedere un pochino di cosa parla Robert Hall per lo più ha girato un film a basso budget qualche anno fa con Robert Hall che si chiama Fear Clinic che non è niente male esce il nuovo film di Tom Six il famoso regista del sopravvalutatissimo Human Centipede almeno il primo secondo me è una merda il secondo l'ho apprezzato molto il terzo insomma è abbastanza piacevole un horror comedy abbastanza piacevole però pare che esce questo nuovo film che si chiama Onania è uscito soltanto un trailer che rappresenta diciamo o ci fa vedere un gruppo di donne annoiate che si trova in questo salottino a masturbarsi guardando la gente che crepa durante l'attacco dell'11 settembre ci sarà ovviamente la solita critica ci sono i soliti recensori che ci troveranno questa feroce critica sociale eccetera eccetera a me Tom Six non fa impazzire però vediamo un pochino che cosa ci presenta le permesse per avere una roba bella splatter ci sono ecco una cosa di cui volevo parlare anche la volta scorsa è questa ovvero di una serie di io vedo con un certo di lei quindi non so se riesco a inquadrarli bene ma sono quattro DVD usciti per un distributore che si chiama Home Video è un distributore di chieti un piccolo negozio di DVD video cassette comunque diciamo di supporti di supporti video che ha fatto diciamo si è specializzato nella distribuzione in un primo momento di cinema indipendente italiano e ha fatto uscire un box con un box mi sembra limitato 100 copie con tutti i corti di Alex Visani che è una sorta di guru dell'horror dell'horror italiano che a tempo fa aveva un sito che era un po' il sito di riferimento perché cercava un po' di nicchie poi è stato un po' sul classato di recente da altri canali youtube eccetera eccetera però è stato un lungo periodo una decina d'anni in cui Visani era un po' il riferimento diciamo dopo il periodo Castoldi degli anni degli anni 90 e Visani era anche un regista ha fatto una serie di corti che sono usciti diciamo per questa prima linea di produzione della Movidio uscirà una terza linea di video distribuiti sempre da un video a breve diciamo più specializzata nel nel mondo del recimento nazionale e invece la seconda linea è curata appunto da Visani e si sta con si chiama Spasmo Video e in questo caso si è specializzata o meglio è partita con una serie di film splatter tedeschi tra l'altro con quintalate di contenuti speciali sottotitoli in italiano eccetera eccetera i tizi sono molto appassionati e secondo me c'è possibilità che vedremo delle cose molto interessanti a breve anzi stiamo anche parlando di qualcosa di particolare l'altro giorno con i ragazzi del negozio non so poi eventualmente ne parlerò in questa sede che cosa c'è da dire ancora io direi di aver finito perché non ho molto secondo me prima avevo confuso un po' di cose e ho detto una scazzata prima quella che riguardava Overlord perché ho fuso due cose assieme ma poi eventualmente metterò l'errata qui in descrizione non c'è molto altro da dire tutto quello che riguarda le recensioni nuove uscite eccetera eccetera ne parlerò in video registrati montati e ripuliti un po' come ho già fatto questa settimana per il demo di Ultrasilver se qualcuno ha qualcosa da raccomandare o qualcosa in particolare di cui parlare magari posso fare anche un qualche speciale non è detto che non mi metta a fare una qualche puntata tematica in cui parlo specificatamente di un gruppo magari potrei fare anche uno speciale sui Drone & Quarter già che ci siamo quando esce il nuovo album così facciamo vedere un po' la discografia e parliamo un po' di tutti gli album uno per uno per oggi è tutto ce la siamo cavata invece che in 80 minuti come al solito con molti meno quanti non c'è scritto però sicuramente molti meno che 80 ci veniamo venerdì o sabato prossimo grazie a tutti